Buonasera ai telespettatori di Rete7, vediamo insieme le notizie di questa sera e di domani. Intanto l'incontro di calcio, l'amichevole alle 20.45 all'Allian Stadium Italia-Olanda. Per questo motivo la metropolitana sarà in funzione sino alle ore 0.30, eccezionalmente di lunedì. Oggi e sino alle 17.30 di domani sono in manutenzione gli impianti semaforici all'incrocio di Corso Potenza, angolo strada Lucento e via Borgaro, agenti in centro incrocio. Abbiamo lavori in via della Cittadella sino al 9 giugno di Potatura Alberi, risulta chiusa tra via Assarotti e via Perrone. Vi ricordo che dalle 8 di questa mattina sino alle 18 di sabato le linee 59 e 86 da Corso Ferrara, angolo via Traves, proseguono per Corso Ferrara, Corso Scirea, via Druento, percorso normale. Veniamo alle notizie di domani, martedì 5 giugno. Intanto il controllo della mobilità, solo domani in via Genova, Nizza, Passo Vuole, Breglio, Borgaro, Chiesa della Salute, Coppino, Stradella, Cossa, Sansovino e Corso Traiano. Alle 10 domani presso la caserma Cernaia la celebrazione del 204esimo di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Dalle 11.30 alle 19 domani al Palabitur un evento della reale mutua assicurazione. Domani dalle 17.30 alle 19.30 i funzionari dell'Agenzia delle Entrate incontrano i cittadini per fornire informazioni e tutto quanto necessario per la compilazione della dichiarazione dei redditi. L'appuntamento è presso la seconda circosizione Cascina Geione via Guidoreni 102. Non ci sono altre notizie, buona serata, buon viaggio e buona settimana. Grazie a tutti.